Forza Italia riparte dai giovani ma soprattutto da chi ha dimostrato di avere consensi sul territorio. Sì, sono molto contento di questa nuova possibilità di esprimersi all'interno del nostro partito. Grato al Presidente Berlusconi, a Marco Bestetti e al nostro coordinatore regionale Miciche. Insieme a lui, ai tanti giovani, ai nostri amministratori locali, ai nostri deputati, ai nostri assessori, possiamo ricominciare un percorso di crescita del partito che metta al centro le migliori energie che provengono dal territorio. Ma proprio i giovani sono quelli che si sono disinnamorati della politica. Riusciamo e riusciremo, così come abbiamo già dimostrato nelle ultime riunioni, negli ultimi meeting regionali, che con la buona politica si può contrastare il sentimento di antipolitica diffuso, che oggi trova in un governo PD 5 Stelle non soddisfatte tutte le attese che c'erano. Un governo che ha fatto una finanziaria che è contro il sud, contro le imprese, contro i giovani e contro le famiglie. Disseminato qui e lì molte piccole tasse per disinnescare l'IVA, non c'è sviluppo e non c'è alcuna visione per la nostra Italia. A proposito di sud, di meridione, la Sicilia è in grandissima difficoltà. Mancano le infrastrutture e i giovani vanno via. Ma ancora non arriva nessun tipo di provvedimento. Sì, con il governo Musumeci tante sono state le risposte anche in termini di ripresa di quelle che sono le infrastrutture. Grazie al nostro assessore delle infrastrutture Marco Falcone, ai nostri assessori regionali, abbiamo ricominciato a tessere le interlocuzioni nazionali utili a ricominciare a sviluppare, a lavorare, a produrre e soprattutto a incentivare quelle che sono le cose più importanti, ovvero sia la sburocratizzazione è fondamentale e noi ci stiamo lavorando per attrarre risorse. La Sicilia è una regione che ha degli asset molto importanti come il turismo, i beni culturali e l'agricoltura di qualità. Queste sono, insieme a un meccanismo di infrastrutture che ricominci realmente a funzionare, le nostre armi vincenti, nonché la posizione geografica che ci favorisce tantissimo. Mi dispiace dover constatare, lo dico anche da consigliere comunale, che purtroppo gli ultimi governi nazionali che si sono susseguiti sono stati nemici del meridione e degli enti locali. Per tentare di risollevare le sorti del bilancio nazionale, gli enti locali e le regioni sono state gravate di maggiori oneri e sempre minori risorse. Così non può andare avanti, anche perché il Sud può ripartire soltanto se tutti assieme ricominciamo a credere ad alcuni pilastri fondamentali ed eliminando alcune di quelle che sono dei provvedimenti governativi realmente imbarazzanti, come quello della spesa storica. Io lo dico sempre, lo dico ovunque. Il Partito Democratico nella scorsa legislatura, il governo Conte 1 e il governo Conte 2 hanno ipotizzato un meccanismo folle che penalizza tantissimo il Sud, la spesa storica.